Hello guys, Renan here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Super Smash Bros, andiamo subito, subito, subito in mischia perchè signori ce le dobbiamo dare di santa ragione Signori, visto che non gioco da un po' di tempo, qua sono usciti un sacco di scenari nuovi, in realtà non sono proprio del tutto nuovi, sono nuovi ma vecchi perchè c'erano negli altri Super Smash Bros, tipo questo di Zelda Tipo questo di Pac-Man, non mi ricordo se c'era, ma questo di Universe sicuramente è nuovo, uno dei due di Animal Crossing è nuovo, questo qui è quello che c'era in Super Smash, lo andiamo a fare subito E ce ne sono anche altri, per esempio questo di Metroid, adesso non mi vengono in mente tutti, se non mi ricordo male, questo non era disponibile, questo di Kid Icarus Uprising O era questo, non era disponibile, non ricordo, uno dei due, e in più certamente non era disponibile questo di Zelda che io adoro tantissimo Molto bene signori, andiamo a farci scenario Omega e ci andiamo a provare quello di Animal Crossing, anzi senza scenario Omega perchè questo veniva utilizzato così nei tornei tempo fa su Super Smash Bros Brawl Benissimo signori, siamo Mewtwo contro Wario, vi avviso già che sto giocando con una CPU non troppo difficile perchè non gioco da, sarà un buon mese e mezzo E quindi appunto, devo riprenderci un attimino la mano, quindi andiamo belli tranquilli, io mi carico le mie mosse, gli faccio i miei Smash Insomma, ok, ho capito che volevo fare una sfida non troppo hard, ma così mi sembra un po' troppo easy, è diverso Cavolo, 0% di danno, ho capito che sono contro Wario, però Wario su, via così Oh, la canzone c'è di Animal Crossing, che tenera Oui, 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 oui Allora, non ricordo tutte le mosse di Mewtwo, questo stordiva, perfetto Quindi appunto possiamo farcela così Ah, questo giusto, faceva questa cosa qua, ci potevi fare un po' di combo poi, signori Sono contento di aver riportato Super Smash Bros, perchè è un gioco che io adoro Però per un motivo o per un altro, l'ho portato sempre molto sporadicamente qua sul canale Quindi cercherò di portarlo in maniera un po' più costante Anche perchè, signori, potrebbe anche darsi che da qui a qualche mese io riesca a riprendere a fare le streaming E sicuramente se si va in streaming, preparate i controller, perchè signori, si gioca a Super Smash Bros, tutti contro tutti Vediamo se in modalità torneo, insomma quello che ho sempre fatto vedere qua sul canale, ovvero a due vite, una contro uno Oppure se si giocherà, semmai mischi a quattro, insomma vediamo un attimino come sarà Però mi piacerebbe molto portarlo in streaming, secondo me è molto divertente come gioco per coinvolgere voi e giocare un po' tutti insieme Boh abbiamo vinto, mi sa che dobbiamo alzare un po' un pelino la difficoltà della CPU Ok signori, ho scelto il bellissimo stage di Zelda Non Omega, a questo giro ho deciso di non farli Omega gli stage perchè questo è bellissimo Ed è enorme, cioè adesso vi voglio farlo un attimino a vedere quanto è grande questa cosa Non si capisce perchè giustamente Fox mi segue, che dice do cazzo vai che dobbiamo combattere Ho preso pica, ho alzato la difficoltà a 8 e vediamo un attimino se va un po' meglio, se è un po' più competitivo Ma giusto perchè sapete, insomma, quello di prima mi sembrava un po' troppo easy come scontro E vedo che comunque, cioè mi ha fatto poco dannino, però è già meglio di prima, almeno mi ha toccato la prima vita Lui c'ha pure quello scudo di minchia, non gli posso sparare i fulmini Mannaggia oh, vieni qui Nooo, me l'hanno dimenticato che Fox faceva lo scattino bastardo Bene, bene, ok, cerco di esplorare un attimo la mappa e farvela vedere un po' tutta Allora, qua abbiamo tutta quest'altra parte con questa specie di, boh, non so, piccola struttura E qua sotto poi c'è una cosa fighissima, non so se l'hanno mantenuta Un'altra c'era una specie di spuntone che se ci smashavi su, signori, la gente faceva i big voli della vita Eccolo lì, quello là sopra Se smash una persona lì fa un botto, signori, che è esagerato Fa davvero un botto esagerato, amico mio Dov'hai? L'ho proprio chiuso in un posto bruttino Ok, facciamo che adesso... Vieni qua, fatti prendere da Pikachu Fatti prendere dal Pikapi Uiii No, non era proprio questo quello che intendevo, però insomma potrebbe anche andare bene Vieni, amica volpe, vieni, vieni Te piazza questo? Ma guardatelo che si fa lo scudo per evitare... Toh Chi ti ha detto che puoi evitare le cose? Chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto a te? Mannaggia Allora, il fatto è che dobbiamo smasharlo nel lato giusto su sta mappa Perché se no col cazzo che vola Col cazzo che vola Vieni un po' qua Dobbiamo fare qualche episodio anche con gli strumenti, signori Perché non vi ho mai fatto vedere gli strumenti di Super Smash Scusate la tosse ma... Purtroppo la recondizionata sta avendo i suoi effetti sui miei polmoni Aaaaaa Aia Mi ha smashato come... Non so Come Ganondorf con calcio ben piazzato Vieni qua, amico mio Vieni, vieni Toh Toh Mannaggia lui, manna... Tu ste cazzo di prese Hai rotto un po', eh? Mannaggia per quanto non l'ho preso, signori No Ah, giusto, qua non l'ho... Ah, sì Ah, sì Lo posso chiamargli il fulmine Aaaaaa Mi sa che ho preso tipo il pixel di Dio Perché come cazzo c'è passato non lo so neanche io Via qui Aia, aia Signore, aiuto Qui Qui ci sta facendo il rimontone Via da qui Olla Ecco, te pareva a te Allora, aspettate, eh Facciamo... Facciamo così Madò Madò Che cosa ti sei evitato, Foxino? Ok Madò Gesù Signori Signori Eh? Dai Vola, 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 vola Oh, così Così Buono, buono, signori Rivinta anche questa Ci sta Ci sta Signori Eccoci Su una nuova mappa Che è quella dei Mi Se non mi ricordo male Abbiamo come colonna sonora Quella del Wii Shop Benissimo E siamo contro Gesù Eh... Lui è proprio In realtà è Dio Per... Però, insomma Potete chiamarlo un po' come preferite Come ben sapete Jigglypuff è il dio di Supra Smash E chi dice il contrario, signori Eh? Non sapete Allora No, a parte di scherzi Jigglypuff è un personaggio difficilissimo a usare Ma quando becchi quello che lo sa usare, signori Jigglypuff È un po' rischioso È un po' rischioso Ma è fortissimo Non ha senso Non ha senso Sembra non essere forte Ma... Ma lo è Lo è decisamente Allora, aspettate Vediamo di Fare una No, eh? Ma manco per Eccolo lì C'ha quei calcini Bastardi Vieni qua Piccola palla Di... Di pelo rosa Che poi non è pelo Perché quello è... Penso sia pelle, sincero Secondo voi Di cosa è fatto Jigglypuff, signori? Eh... Lanciamo questo sondaggio Di cosa è fatto Jigglypuff? Io penso che sia fatta Della stessa sostanza dei sogni Perché è Dio Però... Però... Questo potrebbe essere solo la mia opinione Quindi... Insomma, ditemi voi Ho letto che Si possono condividere Tipo i disegni In qualche modo Per farli apparire Qui sullo sfondo Della stanza Del mio Ma sinceramente Non lo so Io tutto ciò Non ho ancora usato La contromossa Quindi adesso la usiamo Per forza Perché finché non uso La contromossa Mi faccio picchiare Vieni qua Dai, 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 dai Benissimo Ok, meno male Perché se no se ci picchiava Di più Diventava problematico Jigglypuff È stato bellissimo Signori E con una grande Vittoria di Ike Io vi saluto Spero che questo video Su Super Smash Vi sia piaciuto Sicuramente ne faremo altri Nel corso del tempo Ditemi che personaggi Vorreste vedere E niente Enjoy E che non ne sia con voi Bye 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 bye